Avrei detto perfetto, sono molto contento soprattutto per la vittoria, è stato uno sforzo enorme di tutto il gruppo e non sto parlando solo di quelli che erano in campo ma veramente tutta la squadra, si è visto anche dopo il gol l'entusiasmo di tutta la panchina che è venuta a festeggiare in campo e noi secondo me dobbiamo andare avanti così. Quanto è stato importante questo abbraccio con la panchina, davvero bellissimo ma anche simbolico con la curva, la corsa proprio sotto la curva? Bellissimo, è stato un momento bellissimo perché io credo che lo Stadio Friuli come ho già detto deve essere un punto forte per noi dobbiamo avere la certezza di avere sempre i nostri tifosi dietro di noi, sostenendoci però tocca a noi a fare le prestazioni così riusciamo anche ad entusiasmare i nostri tifosi quindi sono contento che stasera veramente abbiamo fatto una bella gara chiudendo con una bella vittoria per festeggiare i 120 anni dell'Udinese. Poi c'è stata una chiara inversione di tendenza perché prima si diceva l'Udinese comunque attacca bene poi magari concede qualcosa in difesa oggi alla fine tranne quell'occasione al decimo minuto per il Bologna, Carnezis non l'abbiamo praticamente visto è l'Udinese che però lì davanti è un po' sprecato troppo forse. Sì, oggi secondo me era molto importante non prendere gol perché è vero che nelle ultime partite abbiamo sempre preso troppi gol abbiamo lavorato per quello, oggi siamo stati ben messi in campo secondo me, abbiamo concesso poco al Bologna loro hanno qualità davanti ma noi siamo stati bravi a difenderci ed è vero che abbiamo avuto tante occasioni mi è dispiaciuto anche per Perizza che è entrato veramente alla grande e ha sprecato due occasioni però lì ho fatto anche i complimenti perché ci vuole che quelli che entrano e anche quelli che non entrano che rimangono in panchina come ho già detto stanno tutti sul pezzo e facciano il loro dovere e noi dobbiamo andare avanti così con quello spirito. Hai fatto benissimo a sottolineare di non aver preso gol perché erano 11 giornate che l'Udinese teneva la porta chiusa mi pare un buon numero e anche un po' la strada da ripercorrere a Bergamo perché comunque diventa una trasferta difficile loro al di là della sconfitta con la Juve sono in formissimo. Sì loro stanno facendo molto bene, mi hanno sorpreso anche, noi analizzeremo bene le loro qualità ma anche i loro difetti e andremo a Bergamo per far male, per portare a casa altri punti.